Ciao ragazzi, bentornati! Sì, oggi si torna a parlare di smartwatch economico, avete letto il titolo? Sì, questo è l'UmiDigi U-Watch 3, che abbiamo già intravisto in realtà nel video del suo fratello gemello, come l'avevo definito, l'ULS01. Infatti lo smartwatch del sub-brand Xiaomi aveva praticamente lo stesso software in condivisione con questo UmiDigi ed eravamo quindi un po' rimasti con il dubbio di chi avesse, tra virgolette, copiato chi, chi aveva il software base. E alla fine ancora non ho una risposta a quella domanda, ma posso garantirmi che alla fine questo UmiDigi, ragazzi, per quanto costa? Una 20-25€, quel poco che fa, ma in realtà neanche poi così poco, perché ha tutte le funzioni essenziali, notifica, un po' di doraggio del battito, calcolo dello sport, un epilogo dello sport, controllo della musica, insomma ci sono tante funzioni a disposizione in una versione internazionale, quindi rispetto all'eluga che aveva il cinese. Varrà quindi alla fine la pena? L'applicazione sarà a livello di quella del sub-brand Xiaomi? Andiamo a scoprire tutto questo nel resto del video. In realtà prima di iniziare vorrei partire dall'obiettivo che mi sta riprendendo. Sì, state notando, è una cinese data tipo 80€, una lente super economica. Voglio sapere da voi come trovate la qualità di questo video. È accettabile? È paragonabile più o meno ai video precedenti? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché magari voglio portare anche qualche video su come creare per l'appunto video con un budget davvero super basso. Tralasciato ciò passiamo subito al nostro smartwatch economico, un Medigi U-Watch 3. State notando più vicino che è uno smartwatch, sì, costruito in plastica. Questa ha la colorazione blu, ci sono varie colorazioni. Questa mi piaceva perché comunque era un pochino più allegra del solito. E sì, ok, è in plastica ma comunque è costruito bene. Io ce l'ho dato praticamente due mesi ed è resistito assolutamente. Abbiamo sì il pulsantino, l'unico pulsantino che praticamente ci permette di azionare, accendere il display e poi svolgere varie azioni. Abbiamo questo stacco, questo scalino con due tonalità di blu differenti. E poi sul retro abbiamo ovviamente la sensoristica e i magneti per andare poi a effettuare la ricarica. E sì, notiamo che ovviamente anche il cinturino si può intercambiare molto molto semplicemente. Vi faccio notare poi che anche il metodo di guisura è efficiente perché abbiamo quel pirulino, quel gaggettino che va a bloccare poi il cinturino per l'appunto per non farlo andare da una parte e dall'altra. E lui una volta messo al polso è davvero leggero. Questo è sicuramente un super vantaggio perché possiamo anche dormirci e quindi svolgere il calcolo del nostro sonno, com'è il suono pesante, leggero. Possiamo girare il polso, possiamo cliccare il pulsante per accendere il display, display che non è malaccio, è coperto da un vetro, curvo ai lati. E il display sì è un IPS ma comunque con una buona luminosità. E sì abbiamo anche un touch, touch che comunque è valido, i tocchi vengono presi benissimo, gli swipe vengono presi benissimo e per l'appunto, parlando di swipe di display. Le watch face vi confermo che sono brutte ma più che altro sapete che c'è, è che sono watch face senza informazioni utili. Data ok, ora ok, c'è una watch face con la percentuale della batteria ma le restanti sono davvero inutili, è un disegno, basta. Non abbiamo i passi, il battito e informazioni un pochino più interessanti. Per quelle cose dobbiamo fare uno swipe verso il basso e quindi poi sì abbiamo tutti i vari riepiloghi ma insomma non è una cosa comoda. Per il resto con uno swipe verso destra abbiamo le altre modalità come lo sport. Abbiamo molti sport a disposizione, la corsa, la camminata, la bicicletta, abbiamo spinning, lo yoga, insomma tanta roba a disposizione. Abbiamo il monitoraggio del battito, abbiamo la modalità relax, le sveglie, il controllo della musica, ovviamente musica in controllo sul telefono, il timer, le impostazioni generiche e anche un riepilogo delle ultime attività sportive. Quindi sì ovviamente l'applicazione rimane comunque sempre fondamentale per questo smartwatch, dobbiamo configurare tutte le cose, vediamo tutti i riepiloghi in maniera completa ma anche in maniera autonoma comunque abbiamo già un piccolo riepilogo all'interno dell'orologio. E allora parliamo di questa applicazione, Verifit Pro, sì non è un'applicazione proprietaria, quindi è un'applicazione terza, non alla pari di quella dell'iLoo, però comunque alla fine è un'applicazione decente, i riepiloghi si vedono bene, la sincronizzazione è decente, possiamo settare tutto quello che si settano tramite queste applicazioni, insomma non ci perdo molto tempo sull'applicazione. Funziona, non è una delle migliori, c'è qualche instabilità ogni tanto, però ci si passa sopra tutto sommato. Per quanto riguarda le notifiche abbiamo uno swipe verso l'alto e le notifiche sono ben fatte, possiamo leggere molto bene il contenuto delle notifiche, abbiamo la data, abbiamo anche il logino per Instagram o magari per Whatsapp, insomma fatto bene il menu delle notifiche. Come notificatore io lo metto al pari delle Mi Band, anzi potrebbe fare anche qualcosina in più. E qui arriviamo ad un punto cardine, il calcolo dei battiti, dei passi e di tutte queste cose e l'autonomia. Queste due cose saranno alla pari di una Mi Band? Allora per quanto riguarda il calcolo dei passi, in realtà posso dirvi che lui non sovrastima tutti quei passi eccessivi della Mi Band. Vi ricordo infatti che la Mi Band ogni volta che siamo in macchina, se non vogliamo sovrastimare i passi, dobbiamo mettere che siamo in macchina tramite applicazione, poi insomma è tutto un po' più noioso. Qui non dobbiamo fare nulla, quindi sicuramente un passo avanti, proprio durante la giornata noto che calcola meno passi extra di quanti fanno molti concorrenti. Il calcolo dei battiti è buono nelle 24 ore, ovviamente quindi quando andiamo a fare più o meno una stima, perché è sempre un calcolo molto impreciso. E per quanto riguarda lo sport, vabbè, non abbiamo il GPS a disposizione, ma comunque dai, non è neanche malaccio per il calcolo ecco di un tapirulano o robe simili. E possiamo fare tutto ciò per un buon tempo, ha un'ottima autonomia questo Mi Digi Watch, perché io sono riuscito a farci una decina di giorni circa. Qualcuno di voi potrebbe farne di meno, qualcuno magari fa qualcosa in più, però insomma siamo su quel tempo, quindi 7-10 giorni, non male. E quindi alla fine per i 20 euro che l'ho pagata, 25 che adesso è in offerta, non è assolutamente male, è un prodotto onesto. Lo prendiamo su Amazon più che altro, quindi non dobbiamo smattare con la cina in picci vari. E quindi sì, magari se dovete fare un regalino, una roba del genere, ci può stare comunque qualcosa un po' più di una band, fa tante cose, le fa abbastanza bene. Dai, ve lo consiglio, vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere voi cosa ne pensate di questo orologio, fatemi sapere anche come avete trovato la qualità di questo video tramite questa lente super economica. E ragazzi, noi vediamo con il prossimo video.